Lei è Giulia. Giulia vuole vendere la sua bici. Ha già creato un account su Bikeflip e questo è il primo passo. Ma ora ha bisogno di foto. Non è il suo più grande talento. Beh, per iniziare abbiamo bisogno di una fotocamera. Quella di tuo nonno, questa piccolina o quella professionale. Ma per favore non usare questo. In realtà ti consigliamo di utilizzare il tuo telefono. Assicurati che la tua bici sia pulita. E anche la tua lente. Oh, questo cos'è? Ok, molto meglio. Passaggio successivo. Cerca un posto luminoso ed ordinato. Posiziona la tua bici così o così. Sì, perfetto. Ora parliamo di angoli. Potremmo diventare super scientifici qui, ma in realtà è molto più semplice di ciò che sembra. Il primo dovrebbe assomigliare a questo. Direttamente di lato. Nient'altro. La seconda da un angolo. Dicis. Ora dal davanti. Ottimo! E non dimenticare i primi piani dei tuoi dettagli preferiti. I dettagli sono importanti. Se vuoi aggiungere un tocco personale, puoi anche applicare il tuo filtro preferito. Allora, non ti interessa questa bici? Beh, a me sì. Anzi, in realtà, potrei quasi quasi acquistarla. Ricorda, buone foto fanno la differenza.